Si sono ispirati a un film di Tarantino, per caso. Già, ora ti presento gli attori. Quello è Greg Minoso. Qui invece abbiamo Jake Fitz. E per finire in bellezza il grande Dustin Chambers. Ehi, guardate, erano tutti in possesso di una calibro 40. Erano qui per ristrutturare questo posto? No, i lavori cominciano la settimana prossima. Ok, allora cos'è successo? Beh, ancora non lo sappiamo. Quel che è certo è che verso le nove c'è stata una sparatoria durata circa un paio di minuti. Si sono sparati a vicenda? Non direi, i proiettili li hanno colpiti dall'alto, con un angolo di 45 gradi. Quindi devono aver sparato dall'assù. Sì, il cecchino era posizionato qui. Nove millimetri. Ok, li ha colpiti tutti da qui. Boom, 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 boom. E poi è scappato da lì. Uh, ragazzi! No! Il cecchino si è beccato un proiettile da una delle vittime. Sarà caduto all'indietro. Probabilmente per alzarsi si è aggrappato a uno di questi deboli. Chiamiamo gli ospedali, vediamo se c'è qualche cosciente qui. Questo è di Beckett. Cosa? Come hai detto, Castle? Gliel'ho regalato stamattina. È stata qui. ... ... Grazie a tutti.